Ecco, se scrivete sempre in montagna si è caucaso, anzi, vedete, il soil è caucasiano, ok, il caucaso è tutto, la storia è lì, solo che la gente non va a cercare, perché alla gente non gli frega niente, vedete, è tutto. La verità è davanti agli occhi, avete visto, è rosso, la verità è lì, questo è Esau e questo è Giacobbe, la gente gli va bene tutto quello che la tv gli dicono, ecco, questa foto cercavo, vedete, lui lascia la sua architettura in Grecia, in Roma, in Spagna, in Francia, in Germania, in Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti, questi sono i paesi che Esau ha poi conquistato, che non sono alla fine la sua terra, questo sarebbe una lezione per un altro giorno. Europa non è la casa sua, ha dovuto conquistarli dalle persone che erano di prima, che erano di cannaggione scura, si chiamavano gli Atruscani, questo sarà una lezione per dopo, ok. Quindi, vedete, è tutto lì, davanti ai nostri occhi, solo che non andiamo a vedere, qui mi sembra come sono dentro le chiese cattoliche, i figli di Esau, ok. Quindi, qui siamo chiari fin qui, ora andiamo a leggere, abbiamo capito comunque chi è Esau, ok, vedendo i paesi dove è andato a finire, avrei anche un video qui, che è una cosa molto interessante di questo video, è che un fratello della Great Mewstone, aveva fatto una ricerca sulla Wikipedia, diciamo saranno 11-13 anni fa, ok, e sulla Wikipedia scrivendo a Edom, si vedeva che ti portava, adesso mando avanti un po', se si scriveva a Edom, ora, come sai, in part 1, si scriveva a Edom su Wikipedia, si si scriveva a Edom su Wikipedia, si portava a vedere i paesi, ok, e guardate qui, qui, vi dice identificazioni con la Roma, ok, identificazioni con la Roma, ok, poi dopo, poi dopo, vi fa vedere come sono sparsi, ok, qui avete visto, avete visto, i punti blu sono come l'espangimento dei figli di Esau, su America, tutti i paesi dove sono andati a conquistare le Americhe, sono andati su Sudafrica, sono in Australia, perciò era tutto su Wikipedia, poi con il passaggio degli anni, quello di Wikipedia ha dovuto tollerli, perché, sì, Esau, questo è il suo regno, comanda lui, non voleva, l'avranno pagato sicuramente, ha dovuto togliere queste informazioni, ora, se andate a vedere su Wikipedia, non ci sono più queste informazioni, ma, dalla forza del nostro padre, Yehawah, nel nome di suo figlio, Yehawah Shai, abbiamo, abbiamo, tutto, avete visto qui, quanto assomiglia tanto questo, questo è Esau, è la fine che ha fatto, Esau esiste ancora, vedete, questa è la sua abitazione iniziale, Comunque, questa abitazione iniziale, il padre l'ha fatto perdere, questa abitazione, ok? Perché ha combinato troppe cose malvagie, perché lui è il malvagio. Ora andiamo a vedere sul libro di Malachia, il libro di Malachia, ok? Capitolo 1, e leggiamo dal versetto 3, e questo versetto va anche per coloro che dicono, e Dio ama tutti, Dio non ama tutti, non ama tutti, ok? E questo è l'ennesima prova. Dal versetto 3 si legge, e ho odiato Esau, ok? Anzi, leggo da, da capitolo 2, che dice, Io vi ho amati, dice il Signore Yehawah, e voi dite, in che modo ci hai amati? Questi sono i figli di Giacobbe, perché Esau è riuscito a prendere controllo di loro, e sono rimasti in povertà, perciò dicevano in che modo ci hai amato. Esau non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore Yehawah, Eppure, io ho amato Giacobbe, e ho odiato Esau, il Padre creatore odia Esau, ok? E dice, ho fatto dei suoi monti una desolazione, e ho dato la sua eredità ai sciacciali del deserto. E questa è l'abitazione che parlava, questa prima abitazione, si era. Il Padre l'ha reso desole, infatti non ci vive nessuno lì, giorno d'oggi. Era la sua prima abitazione, e ovunque va lui si mette su, si crede un Dio, si crede chissà cosa, ok? Ecco il Padre lo taglia, perché lui è il malvagio, e continuiamo a leggere qui. E ho odiato Esau, ho fatto dei suoi monti una desolazione, e ho dato la sua eredità ai sciacciali del deserto. Se Edom dice, anzi, devo leggervi, perché qui non esiste questo se, non è se. Andiamo, vedo di leggere da un'altra versione, ok? Ok, questo è meglio. Seppure Edom dice, ok? Edom dice, noi siamo impoveriti, ma torneremo ad edificare i luoghi deserti. Cos'è ha detto il Signore degli eserciti? Essi edificheranno, anzi, questa è una parola dopo. Edom poi dice, noi siamo impoveriti, perché questa è storia. C'è stato un momento che il Padre li ha fatto proprio impoverire, quando li ha reso desole questa prima abitazione che abbiamo visto prima. Ok? Erano riati da tutti, e dovevano, si sono scappati sulle montagne di Caucaso, che si trova dalle parti di Russia. Ecco perché si chiamano i Caucasi, ok? Caucaso Mountain, ecco qui dove si trova. Queste sono le montagne di Caucaso, ok? L'abitazione dove si è scappato, qui, da queste parti qua. Caucasi, avete visto? Ecco perché si chiamano i Caucasi. Tanti i progeni di Esau non sanno nemmeno il motivo perché si chiamano i Caucasi. Non lo sanno, ok? Comunque si chiamano i Caucasi perché provengono dalle montagne di Caucaso. Quando il Padre li ha scacciato via dalla prima abitazione, si sono trasferiti qua, sulle montagne di Caucaso. Visto che avevano questa... Questa... Come si dice? Questa cosa un po' diversa, la pelle senza la melanina, ok? La gente li notava facilmente, ok? Torniamo a leggere. Seppure Dom dice, Noi siamo impoveriti, ma torneremo a edificare i luoghi deserti. Quando i Padre li hanno preso, loro si sono messi insieme e... Sì, non hanno chiesto il perdono da Padre o cercato di diventare meglio. Ora anzi lanciano la sfida che noi torneremo e faremo. Cos'è il ha detto il Signore degli eserciti? Poi il Padre Yahweh dice, Essi edificheranno, ma io distruggerò. Perciò edificheranno, ma io distruggerò. E saranno chiamati con trada dell'impietà. E il popolo contro il quale il Signore è indegnato in perpetuo. Se andate a vedere cosa significa perpetuo, perpetuo vuol dire per sempre. Anzi, andiamo a vedere un'altra versione. Andiamo da questa versione e vediamo cosa dice. Essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'impietà. Cosa è impietà? Un'altra parola per impietà è cattiveria, malvagità. I cattivi. Andiamo a vedere se un'altra versione ce lo dirà. Ecco qui. Questo. E saranno chiamati territorio della nequizia. Ok? Nequizia. Il popolo contro il quale l'Eterno è indignato per sempre. Ok? Loro sono i malvagi. Ok? Per sempre. Ok? Il popolo che i padri odia per sempre. Perciò è un odio perpetuo. Ok? Perpetuo vuol dire per sempre. Ok? Ora andiamo a leggere dal libro di Salmi. Capitolo dieci. E si trova qui. Lempio nell'alterezza della sua faccia. Dice. Lempio nell'alterezza della sua faccia. Scusatemi che controllo qui dalla mia scrittura un attimo. Vediamo un'altra versione. Questo è il problema delle scritture italiane. L'hanno fatto perché il punto è lì che dice che sono i cattivi. e cercano sempre di nasconderlo. Comunque. Yahab HaShem Yahab HaShai. Volendo riusciremo. Alterezza. Anzi. Scusatemi. Ah, ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Vedete? La parola che cercavo finalmente apparisce. Ho fatto diverse versioni qui per nascondere la verità. Ora voglio vedere cosa dice qui. Se torno sul libro di prima, che abbiamo letto prima. Il libro di Malachia. Capitolo 1. Ok. E era versetto 3. Il libro di Malachia. Messaggio che il Signore... Ho abbandonato il loro territorio. Ma io, Signore dell'Universo, rispondo così. Ricostruiranno pure. Lo demolirò ancora. Allora saranno chiamati. Regione dove regna il male. Avete visto? Questa è la parola che hanno nascosto. Ok. Comunque, nella scrittura ancora più giusta, il regno dei malvagi. Ok. Il regno dove regna il male. Il popolo contro il quale il Signore è irritato per sempre. Avete visto perché è molto importante andare a vedere diverse versioni sulle scritture italiane. Perché nascondono la verità così. Avete visto? Saranno chiamati le regioni dove regna il male. Comunque, la parola giusta sarebbe... Regioni dove regna il malvagi. Il malvagi. Il malvagi. Il malvagi. Ok. Ora andiamo. Visto che sono riuscito attraverso la forza di Jehovah nel nome di suo figlio Jehovah Shiai a farvi vedere questo punto. Andiamo avanti a leggere dal libro i salmi. Ok. Era salmi capitolo 10 e versetto 4. Dice il malvagio. Chi è il malvagio? Abbiamo visto prima. Esau e Edom. Perciò quando vedete queste scritte dice il malvagio. Sta parlando di Esau e Edom. Ok. Ci vuole... Ci vuole lo Spirito Santo per farvi capire queste... Queste sono le chiave per capire le scritture. Perché le scritture sono scritte nella maniera che non possono capire tutti. Perché è un libro fatto solamente per gli eletti della casa di Israele. Per tutta la casa di Israele. Ok. Coloro che chiedono la conoscenza dal padre Jehovah. Li verrà dato per capire. Qui dice... Dice il malvagio che è Esau. Abbiamo letto prima nel libro di Malachia. Capitolo 1, versetto 4, 3-4. Che vi fa capire che lui verrà chiamato il regno dei malvagi. Ok. Dice il malvagio nella sua presunzione. Nessuno mi chiederà conto di nulla. Ed è questo che dice... Ok. Dopo aver conquistato tutte le terre... Dopo aver... E' andato a... Prima di tutto è andato in Gerusalemme. Ha fatto... Ha ammazzato un sacco di gente durante l'era degli imperi romani. Sono andati... Hanno disperso i santi del padre in diversi angoli del mondo. Ecco perché siamo scappati giù in Africa. Siamo scappati giù su in Europa. Tanti sono scappati così sparsi. E in Africa c'era un altro popolo. Che questo sarà un'altra lezione che farò. Ok. Erano sempre di cannagione scura. Ma non erano uguali. Non sono uguali. Questo sarà un'altra lezione per un altro giorno. Lui ha fatto... E' andato sul territorio dell'America. E' andato fingendo di aiutarli. Gli ha portato la varicella lì per sterminare un intero popolo. Ha preso la loro terra. Gli ha preso l'identità. E questo che fa Esau? Lui va, ammazza la gente con inganno. Prende il loro identità. E cambia tutto. E ha sempre fatto così. E nessuno dice niente. Dice il malvagio nella sua presunzione. Nessuno mi chiederà conto di nulla. Dio non c'è. Chi dice che Dio non c'è? I così chiamati uomini bianchi. Credono nella scienza. Dicono che Dio non c'è. Che siamo noi creatori di tutto. Anzi insegnano ai bambini dalle scuole che sono progeni della scimmia. Che evoluziono dalle scimmie. E questo è così chiamato uomo bianco che è uomo rosso. E' lui che fa tutte queste menzogne qua. Questo è il suo pensiero. Che quel che fa ha sempre successo. Troppo alti per lui i tuoi giudizi. Degli avversari non gliene importa. Nulla in perpetuo mi farà vacillare. Dice in cuor suo. Non mi accadrà mai niente di male. E' questo che dice l'uomo bianco. E' così chiamato l'uomo bianco. Ha intanto i suoi giudici. Il padre mette certe leggi. E lui cambia tutto. Il padre dice che chi uccide va ucciso. Lui cambia tutto. No, lo faccio fare 20 anni di carcere. Blah blah blah. Se ha soldi non andrà nemmeno. Perché cambia tutto. Il padre dice che un uomo non deve dormire con un altro uomo. Lui dice va bene. Il padre dice tante cose. E lui cambia tutto. Continuiamo a leggere. Di maledizioni, imbroglio e ingiudie. Ha sempre piena la bocca. E' questo che ho detto prima. Poi con la tv. Con il suo modo di governare. Racconta un sacco di bugie in tv. Lavaggi di cervelli qua. Bugie, imbrogli. Ok. E' come ha fatto imbroglio anche ai nativi indiani. Che li ha sterminato tutti. Come è andato in Africa. Ha preso schiavi dappertutto. Erano comunque i figli di Israele che prendeva schiavi. Che lui conosce la verità. E li nasconde. Ha sulla lingua parole maliziose e cattive. Se ne sta in agguato fra le siepi. Dal suo nascondiglio. Uccide gli innocenti. Con gli occhi. Spia la gente in difesa. Chi è che vi vuole spiare? Chi è che vuole vedere tutto? Anzi questo mi porta a pensare ai poliziotti. Che si nascondono negli angoli. Per farvi le multe. Queste cose qua. Che alla fine non sono altro che. Gli stessi soldati che c'erano a quell'epoca. Dove è sta foto? Questi sono i figli di Esau. Questi sono i figli di Esau. I antichi romani. Questi soldati sono i poliziotti di giorno oggi. Ok? Questi sono i figli di Esau. Ok? Sono i figli di Esau. E c'è un'altra foto che volevo. Ecco qui. Questi erano i soldati romani. Della antichità. Eccoli qua. Di giorno d'oggi. Ok? Sono tutti a servizio suo. Lui è riuscito a fare tutte queste cose. Per coprirsi. Per far sì che non crede niente. Ok? Qui. Vi. Vi consiglio di leggere tutto questo. Questo libro qua. Che vi. Che vi spiega bene chi è il malvagio. E come abbiamo visto dal libro di Malachia. I malvagi sono i figli di Esau. Esau. Ok? E per chiudere questa lezione. Leggo dal libro. Di proverbi capitolo 29. Agree and download. Ok? Perché mi piace anche questa versione. Proverbi capitolo 29. Leggo dal versetto 2. E' molto importante questo versetto che vi dà anche un indizio di che regno siamo. E dice. Quando i giusti sono al potere il popolo si rallegra. Ma quando governa un disonesto il popolo soffre. Ma questa non è la parola che volevo. Perché la parola lì è il malvagio. Vedete allora come cambiano le parole qui. Qui dice. Quando domina l'empio. Qui dice. Ma quando gli empi signoreggiano. Il popolo geme. E' tutta un'altra cosa che non si capisce. Scusatemi. Si vede che questo versetto. Nulla da fare. Va bene. Comunque vi dico. La parola qui. Non è. Quando governa un disonesto. Anzi. Ve lo vado a fare vedere. Nella scrittura inglese. Che è. Proverbio. Capitolo 2. Capitolo 29. Scusatemi. E versetto 2. Ecco qui. Che dice. Quando i giusti sono in autorità. La gente si diverte. La gente è felice. But when the wicked. Avete visto. Wicked. Qui. La parola è wicked. Ok. Che viene. Dalla radice. Scusatemi. Ebraica. Che vuol dire. Rashah. Rashah. Ok. Il cattivo vuol dire. Ma quando i cattivi. Sono. In potere. La gente. Piange. La gente. La gente soffre. Ok. Questo. È la. È proprio come dovrebbe essere. Ma qui si vede che. Cambiano le cose. Sulle scritture. Comunque. Spero che siete stati edificati. Con questo video. E. Lascio tutto questo. Nel sacro nome. Del padre. Yahawa. Nel nome di suo figlio. Yahawa Shai. Shalom. Alla prossima.